E sono attesi moltissimi atleti all'evento di triathlon che è stato organizzato sul litorale pisano. Litorale pisano e triathlon un binomio ormai spontaneo in tutte le stagioni grazie alla Physio Sport Lab di Pisa che domenica prossima 15 ottobre a Tirrenio organizza la 23esma edizione della Silver Rank, gara di livello nazionale tra cui il nuoto in acquilibrio intitolato alla memoria di Eugenio Tursi, ragazzo recentemente tragicamente scomparso. Un appuntamento con il patrocino del Comune di Pisa è impegnato a mettere sempre più in luce le associazioni sportive del territorio. Sempre sulla scia della Notte Bianca Pisa e l'amministrazione comunale sostiene eventi di questo tipo, un evento che vedrà protagonista di nuovo il nostro litorale. Per noi è molto importante perché è una manifestazione che coinvolge la disciplina sportiva del triathlon sia per i normodotati sia per i diversamente abili e anche il nuoto in acque libere, la commozione che si percepisce per questo memoria al nostro Eugenio Tursi che ha perso la vita molto recentemente, un grande nuotatore, un grande amante del mare. Senza dubbio dobbiamo ringraziare associazioni sportive come la Physio Sport Lab che portano eventi di questo tipo nel nostro territorio. Non dimentichiamoci che il campo gara per i diversamente abili sarà un campo pilota per l'Ara Olimpiadi di Parigi 2024. Il campo base per Parigi 2024 è il fiore all'occhiello di una manifestazione che richiama partecipanti da tutta Italia. Gli atleti sono 400 nella somma degli atleti che faranno la gara di nuoto alle ore 10 sulla distanza del Mezzo Miglio e Miglio Marino. Segue la gara di Paratriathlon con sei squadre da tre atleti ciascuna e poi un quarto alle due quando tutti hanno le gambe sotto il tavolo noi ci divertiremo con il triathlon sprint Silver Rank alla sua 23esima edizione in Pisa. Alla presentazione nella Sala dei Baleari presenta anche la famiglia di Eugenio Turzi. Ringraziamo per questa occasione di portare ancora una volta Eugenio al mare Marino e Nicola che con questa competizione ci permettono proprio di farlo. Una frase che ci ha chiesto Marino di produrre è «Si come il mare, unisciti al mare» che è una frase che veramente ricorda mio fratello Eugenio. Fermiamo per qualche secondo per la pubblicità, ci vediamo subito dopo.